Lacrime e applausi hanno accompagnato il feretro di Enzangrisano all'uscita della cattedrale di Andria dove si sono svolti i funerali della donna. Un giorno di lutto cittadino, di drappi rossi dietro le attività commerciali, di dolore e silenzio per una tragedia che umilia la comunità, così ha detto Monsignor Luigi Manzi durante l'omelia pronunciata davanti a una chiesa gremita. Enzangrisano è stata uccisa il 28 novembre scorso da suo marito Luigi Leonetti e il momento del silenzio ha detto ancora Monsignor Manzi per riflettere su dove ci sta conducendo questa società. Dalle indagini è emerso che pochi giorni prima dell'omicidio Enza sia stata in pronto soccorso dopo essere stata picchiata dal marito. Campanelli d'allarme che non sono bastati però a evitare che la tragedia si consumasse. Io spiro nella giustizia, che cambiasse qualcosa perché andando avanti così le cose peggioriamo soltanto. Queste morti io non le accetto proprio per niente, dico fate più giustizia. Una persona molto riservata, sempre sorridente e condividevamo il lavoro e quindi distrutte, distrutte, affrante dal dolore. Al momento dell'omicidio in casa c'erano anche due figli della coppia di 6 e 11 anni. Il più grande che stando alle indagini avrebbe telefonato alla zia subito dopo il delitto raccontando quanto accaduto ha affidato alla voce della sindaca Giovanna Bruno una lettera per la mamma io riesco a sentirti a scritto e tu a guardarmi dall'assù. Il più piccolo ha invece lasciato un disegno vicino al feretro accanto al quale c'erano anche delle scarpette rosse, simbolo della lotta alla violenza contro le donne. Di rosso si sono tinti il viso anche coloro che hanno accompagnato poi la salma verso il cimitero di Barletta, città di origine della donna. Martedì alle 19.30 Monsignor Manzi indette una giornata di preghiera e penitenza che si svolgerà nella cattedrale di Andrea.